Ma scusami, non vi eravate lasciati? Sì. E allora che è venuto a fare? Eh, io che ne so. È bello a volte non avere l'impressione di parlare da solo. E col tuo professorino ti è passata, stronzetta. Certo sei gemelli. Che dici? No, dico, speriamo che sia gemelli. Mio padre è gemelli, non lo supporto. Guarda che anche io sono gemelli. Sì, non lo so. E allora parte tua figlia? Eh certo, quindi sono giovani, eh. Se non si divertono adesso, poi alla nostra dà c'è poco da divertirsi. Pensavo ad una cosa. Che cosa? Che mi prendi mai per mano. Intanto facciamo il viaggio insieme, ti accompagniamo, poi magari ci divertiamo, rimaniamo là anche noi. Ma voi siete sicure che non si sparano più là? Mamma, la guerra è finita più di 15 anni fa. 15 anni, mamma mia. Sembra ieri. Sono incinta di tre mesi, non dovrai fare un viaggio. È proprio per quello che lo devi fare, quando ti ricapita. Parca bottana, non mi hai detto niente. Mi hai tenuto nascosto tutto, come se io fossi una qualsiasi. Dice che sono gorgeous, che significa? Che ti si vuole fare. Credevo che stessimo facendo un viaggio insieme. Tu non ti preoccupare, è un problema mio. Che non riesco più ad esserti sola mica. Me ne frega qualcosa? Ma che dici? Di quello che sto facendo della mia vita. In questi giorni non è successo niente. Ma è cambiato tutto. Si sa, no? Che alcune star di Hollywood hanno atteggiamenti un pochino insopportabili, capricciose, violenti, racconde, viziate. La grandezza nell'interpretazione va un po' di pari passo con la maestosità del loro ego. Ma vi assicuro che da alcuni attori non mi sarei mai aspettata questo tipo di comportamento, perché li vediamo sempre belli e simpatici sullo schermo e invece la realtà è tutta un'altra cosa. Ecco, per voi una piccola classifica di attori più temuti da colleghi e registi. E partiamo con un'insospettabile, veramente, Jennifer Aniston, l'incarnazione della simpatica e molto socievole ragazza americana. Del tutto inaspettate le rivelazioni di un membro dello staff di Friends, che ha raccontato di come l'attrice fosse invece asociale e antipatica all'epoca. L'insider spiega che durante la pausa pranzo, mentre tutti i membri del cast mangiavano insieme, Jennifer se ne andava da tutt'altra parte in privato. L'avreste mai detto? Poi, Edward Norton, noto sia per le sue interpretazioni impeccabili che gli hanno portato tre nomination agli Oscar, per Scheggi di paura, American History X e Birdman, ma anche per il suo grande impegno nelle azioni umanitarie e ambientaliste, è altrettanto noto a Hollywood per il suo carattere difficile e un'esagerata presunzione nei confronti dei colleghi. Pare sia proprio per il suo caratteraccio che la Marvel abbia deciso di sostituirlo per il ruolo di Hulk. Eh Edward, eh, ti devi dare una regolata. Un altro attore non particolarmente amato dai colleghi e dagli addetti ai lavori che si sono ritrovati sul set con lui è Russell Crowe. L'hanno definito come una persona che, diciamo, facilmente si lascia andare a scatti d'ira. E pensare che sullo schermo interpreta sempre personaggi molto positivi, magari a volte un po' violenti, come nel Gladiatore o in Robin Hood, ma sempre per una giusta causa, positivi. In realtà pare invece che basti una banalità per farlo diventare aggressivo. Bandaggia. E chiudiamo con un'attrice dalla quale io non me lo sarei proprio mai aspettata. Sorriso enorme, sincero, bella, fresca. Julia Roberts, sì. La cattiva fama dell'attrice è legata a un momento ben preciso. Durante le riprese di Hook, Capitano Uncino, il film diretto da Steven Spielberg nel 91. Ecco, sul set ci furono diversi contrasti tra lei, che interpretava Campanellino, e il regista. All'epoca la star faceva uso di droghe e stava passando un periodo non semplice per la rottura con Kiefer Shatterland. Mamma mia che delusione. Avevate già sospetti o già sapevate voi? Fatemi sapere cosa ne pensate. E vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao! 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 Ciao!